Siamo con il mister Citeroli del Furio, mercoledì sconfitta contro il Gragnano 5 a 2. Mister, com'è andata la partita? La partita dovevamo andare pure in vantaggio. Sì, è brutto, lo so, la sconfitta è stata tremenda. Però i ragazzi mancavano, a parte mancava anche Savio. Però i ragazzi hanno fatto un approccio buono. Abbiamo mancato due occasioni. Poi dopo abbiamo preso questo golo sul rigore. Ci siamo un po' persi e già il primo tempo perdevamo. Perciò è una partita che dobbiamo subito girare pagina. Perché domenica abbiamo questa partita e dobbiamo assolutamente fare di tutti. I ragazzi sanno che è una partita decisiva per noi. Cercare di andare a prendersi tre punti contro l'ultima in classifica. E allora per dare un po' di respiro. Mister, situazioni indisponibili? No, indisponibili nessuno. Solo tranne Coppola che è infortunato. Poi dopo tutto a posto. Spero mal di là di chi va in campo. L'ho detto è una partita da vincere. Da vincere e speriamo che ce la facciamo. E se l'ultima domanda. I risultati purtroppo negativi. Come si sta muovendo la società? Vuole intervenire sul mercato? Io mi auguro di sì. Mi auguro che la società lo sa già dal mese di agosto. Quando abbiamo parlato che questa squadra qua è una squadra che mancava di tre o quattro pedine. Speriamo che adesso pensiamo a questa partita. Pensiamo di vincere questa partita. Sperando che la società intervenga sul mercato. Perché la squadra ha bisogno di rinforzarsi come ho sempre detto io. Grazie. Grazie. Grazie.